Musica Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su come convertire una mod dal 2013 al 2015 Completa di tutto E oggi ragazzi come vi avevo promesso andiamo a vedere come rifare le animazioni alla mod Dato che mettendo il plane e tutto quanto abbiamo perso tutto E adesso vi faccio vedere che è così non come dice qualcuno che le animazioni rimangono Perché si può essere che rimangono ma la prossima volta che andrete ad aprire l'i3d Quindi a cambiare qualcosa e salverete perderete tutte le animazioni A meno che questo qua a meno che il rimorchio non abbia già le animazioni predisposte dall'xml E non dovete rifarle ma se le animazioni sono predisposte nell'i3d perderete tutto quanto E oggi vi farò vedere come Tra l'altro vi faccio notare che ho notato qua nella farm della gold edition Che se io mi abbasso e vado sotto terra mi troverò un punto di domanda Questa è una cosa molto molto strana O è perché ci sono sopra e finito sotto oppure non lo so Comunque la conversione che abbiamo fatto fino adesso è questa Quindi il rimorchio si vede in game Come vedete ci sono da sistemare ancora le luci perché rimangono accese Dobbiamo sistemare le ruote perché l'asse qua davanti Le ruote non girano Cioè girano solo le tre I tre assi non la quarta Per cui dopo dobbiamo andare a vedere perché Io adesso vi faccio vedere che Il plane che abbiamo fatto l'altra volta Vedete Girano solo le tre di qua E basta Sono tre di qua e due di qua Quindi tre ruote hanno un problema Magari dopo andiamo a vedere perché Comunque Vi ricordate che l'altra volta abbiamo fatto il plane Vabbè adesso lui balla perché dobbiamo cambiare delle cose dopo Premiamo R Vediamo un po' Vedete che l'altra volta abbiamo fatto il plane Tra l'altro adesso voglio farlo un po' Aspettate che sono uscito troppo Stiamo qua almeno Come vedete il plane funziona Funzionante Per cui abbiamo fatto un buon lavoro Ringrazio comunque Quelli che mi hanno fatto i complimenti E quelli che mi hanno scritto che sono riusciti a farlo Però ragazzi io ve lo ribadisco Ancora una volta Non convertite Questo visini qua Perché ho visto che tanti hanno fatto che fare la stessa cosa che sto facendo io Ma appunto con il visini quattro assi Ma Vitali comunque si è arrabbiato perché In teoria la conversione Cioè io gli ho chiesto i permessi e tutto Vi prego Provate su altri carri Chiedete i permessi Non fatelo su questo qui Perché non mi sembra giusto nei confronti di Vitali Io lo faccio perché comunque volevo farlo in tutorial Dato che avevo in mano questo Lo sto facendo su questo Piuttosto chiedetegli se siete donatori di Marco Lussi Vitale Chiedetegli Voglio convertire il visini a tenermelo privato Provate a chiederglielo nel caso Però non mettete screen in giro Nel caso lo state convertendo O seguendo il mio tutorial Ecco Tutto qui Allora Lui adesso mi dà Gli assi sterzanti Uno Due Però dobbiamo far sterzare anche quello davanti Forse per quello Per cui adesso spostiamoci Vedete che Se io adesso tento di scaricare Apriamo qua Ecco vedete perché adesso le ruote Con le collision e tutto Sono un po' sballate Perché poi andremo a mettere a posto Vedete che adesso schiaccio Q Dite che si sente il rumore di scaricamento Ma Non va Tutto questo perché abbiamo modificato l'E3D Abbiamo salvato Siamo usciti E ha perso tutte le animazioni Vedete adesso lui continuare all'infinito Con il rumore di scarico Come vedete dobbiamo alzare anche un po' il plane Perché esce da sotto Vedete si vede sotto Ok fermiamoci Ovviamente poi dobbiamo mettere frecce e luci nuove Guardate vedete Le probleme delle collision Questo se vi succede poi Dovete guardare come farò io poi O dopo Nei prossimi video Per cui adesso ragazzi Io lo lascio qua Lo lascio qui Sono speso in area E ci ritroviamo sul Sul desktop Per vedere un po' di sistemare le cose E rifare le animazioni Bene Allora Diamoci da fare ragazzi E tra l'altro volevo aprire una piccola parentesi Volevo lasciare un mio pensiero personale Agli attentati che sono successi a Parigi Sono vicino Sono vicino Tutto lo staff di Fmarco 95 Siamo vicini ai francesi Non mollate Perché siete un gran popolo Tra l'altro Io stimo veramente tanti francesi Per cui non mollate Non mollate Rialzatevi E vediamo Distruggere Sti pezzi Di merda Chiudo parentesi Oggi ragazzi Vi renderete davvero conto Cosa vuol dire Lavorare su delle mod Perché io ho letto Di tanti personaggi Che scrivono E se avevo io Giants Editor Avrei convertito il mondo Va bene E allora oggi Vediamo come ci rimarrete A fine video Per cui io direi Di iniziare subito Allora In descrizione Come sempre Ve lascerò Stringhe per animazioni Che non ho salvato Li mortacci miei Ah no Ce l'ho qua Scemo Ok Ce l'ho qua sotto Allora Io vi lascerò Queste Qui Faccio salva Già subito Così non le perdo Per cui riapro Ok Ve lascerò Queste qui Che qui abbiamo L'animazione Per il piedino Che sono queste stringhe Fino a qui Quando chiude L'animation E poi vi lascio Le animazioni complete A partire da Vasca Portellone Tutti i cilindri Del pistone Tutto quanto Per cui Io ho visto Che il Nostro caro Visini Che stiamo Convertendo Ha già L'animazione Integrata Dall'XML Del Del piedino Vedete Questo è tutto Il piedino Adesso per Semplificarmi La vita Move support Bar Down up Muove il piedino Su Giù E io Metto Il piedino Così per non Confondermi Noi adesso Dobbiamo andare a mettere Dato che il piedino Ce l'ha già Non mettiamo Quelle del piedino Ma bensì Andiamo a mettere Solo Le animazioni Le animazioni principali Quindi pistone Vasca Portellone Eccetera Quindi io qua C'ho l'animotion Che è chiuso Quindi tiro via Questo E vado a Prendere Dalla mia Stringa Di animazioni Fino A giù 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 Fino alla chiusura Dell'animotions Con la S Copia E Incogliamo Qua sotto Ok Eccoci qua Adesso Aspettati Lasciamolo così Tanto Facciamo così Portiamo tutto a pari Mica che poi Viene fuori Il bordello Perfetto Allora Io ovviamente Vi ho lasciato Tutti gli spazi vuoti Dove dobbiamo andare A mettere gli index Qua dentro Dove ho messo Tutto a zero Le varie traslazioni E tutto quanto Per cui Allora Partiamo Immediate amount Allora Start time End time E' il tempo Che deve Scusate Il tempo di partenza E il tempo di fine Cioè quando deve partire L'animazione E quando deve finire L'animazione Io vi ho messo Per i rimorchi I tempi di scarico E i tempi di animazione Dei rimorchi Di default Cioè dei carri Originali Del gioco Per cui abbiamo La movimentazione Di tutti i cilindri Dei pistoni Alla stessa velocità Della vasca Cioè questa Ok Io vi ho messo Anche qua I due particolari Cioè che qua Animiamo il portellone Qua animiamo la vasca Voi fate la stessa cosa Qui invece Poi queste due Sarebbero per i pistoni Che tra l'altro Devo rivedermi L'i3D Perché adesso Non mi ricordo Per cui io direi Di partire Immediatamente Per cui Apriamo L'i3D E oggi ragazzi Vi rendete davvero conto Cosa vuol dire Lavorare su una mod Accendiamoci una luce CTRL L sinistro L Ok Qui abbiamo Pistone Perfetto Ok Allora Vediamo un po' Vasca Nella vasca Dobbiamo dargli La rotazione Quindi Qui è già giusto Per cui Vedete Se io adesso Mi metto qua Sulla rotazione Se alzo Vedete che lei Si alza Vedete che si muove L'asse della rotazione X Se mossa È andata a 43 Vedete se scendo Torna a 0 Vedete sempre Tenere premuto Il tasto sinistro Quando diventa La linea gialla E tirate su e giù Allora All'incirca Più o meno Dobbiamo trovare Una rotazione giusta Qua siamo a 44 Proviamo ad andare A meno A meno 50 Meno 50 Vediamo un po' Più o meno Mi sembra Abbastanza ribaltata Eh Meno 50 Ok Intanto noi lasciamo A meno 50 Perché prima di tutto Prima di far la vasca Andiamo a fare i pistoni Così vediamo A meno 50 Eh Se va bene Con la lunghezza Di pistoni Qua Eh ragazzi Abbiamo il doppio pistone Per cui dovremo fare Due animazioni Invece se voi Convertite Un Un rimorchio Con un pistone Solo dovete fare Solo le stringhe Che vi ho lasciato io Io in realtà Adesso mi vado A prendere Altre due Oppure Basta che fate così Prendete Da qua Dal primo Prima parte Del pistone Prendete da qua Fate copia 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 Anzi Copia 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 Io farei che incollare Di sotto Di nuovo Quindi saltate giù Fate Incolla Mannaggia Sta freccia Ok Perfetto A questo punto Direi di iniziare Immediatamente Quindi partiamo Da quello Di destra Perfetto Quello sotto Allora io Ho la mania Di non muovere mai Il primo cilindro Ma partire dal terzo Da questo qui Vedete Per cui noi adesso Incominciamo a tirarlo su Non troppo Ok Tiriamo su Il quarto Ok Tiriamo su Il quinto Perfetto Tiriamo su Il sesto E vediamo un po' Se ci da il settimo Ok E il settimo A questo punto Quando li abbiamo Più o meno Aperti tutti Adesso vabbè Qua la luce Da un effetto bianco Al pistone Ma non sarà così Poi in game A questo punto Selezioniamo L'intero pistone E gli diamo La rotazione Così più o meno Andiamo giù A vedere Adesso noi gliela Diamo così Adesso andiamo A fare un attimo Il secondo pistone Che è qui Quindi muoviamo Dal terzo Come faccio io Di solito Se poi voi volete Muovere anche il primo Fate voi Fuori Fuori Quarto Ok Quinto Ok Se vedete che è uscito È fuori Tornate un pelo giù Incastratelo Sei Saliamo Dentro Sei E settimo Per ultimo Ok A questo punto Selezioniamo L'intero pistone Come prima E diamogli una rotazione Che qua Adesso bisogna Vedere Più o meno Quanto Farli ripiegare Perché Aspettate Che mi metto Un po' Di qua Ok Più o meno Così Mi sembra Più che logico Così E invece Questo Qui Lo buttiamo Lì Così Ok Quindi questo deve alzarsi molto ma molto meno Per cui Andiamo a vedere di abbassare il terzo Abbassiamo il quarto Abbassiamo il quinto Abbassiamo il sesto E alziamo il settimo In modo tale da farlo arrivare un po' più In alto Vediamo un po' Poi bisogna sempre controllare che non esca fuori dalla vasca Vedete Quindi Quando vedete già la grata che comincia a venire fuori Abbassate un pelo Ok E lui sarà dentro Per cui Così mi sembrano inclinati più o meno Più o meno Anche perché se poi andiamo a vedere Diciamo L'inclinazione qua è meno 38 E l'inclinazione qua è meno 37 Per cui io farei meno 38 anche qua 38 Così abbiamo la stessa inclinazione per tutti Per tutti e due Meno 38 Però questo adesso ovviamente dobbiamo Ovviamente non ci sono punti dove va agganciato il pistone Non ci sono buchi Per cui io vado più o meno a caso Qua c'è da allungare Proviamo Il settimo Proviamo dal sesto Ad allungarlo un po' No questo esce subito Proviamo col settimo Questo Ok mi sa che qua dobbiamo muovere anche L'altro Oppure proviamo a dargli un pelo Annaggia da qua Cilindro 2 Cilindro 3 Così Si è mosso un pelo Cilindro 4 Su un pelo Fuori 5 5 Ok mi sa che qua Cari ragazzi Dobbiamo muovere anche Il Oppure Oddio Oppure mica tanto Ah va bene Dato che vuoi Vuoi farmi arrabbiare Non appoggia tantissimo Maledetto 6 7 Escono troppo Peccato Per cui io gli diamo un pelo di rotazione in più Tipo Gli diamo un 39 Vedere un po' Fa vedere È un pelino Vabbè noi proviamo a lasciarlo così Poi Io non volevo muovere il secondo Perché di solito il secondo cilindro mi dava sempre problemi Per cui noi iniziamo a provare a lasciarli così E adesso iniziamo a sistemare il nostro XML con i dati dei pistoni Dei cilindri scusate Allora iniziamo dal Dal primo pistone che ci è capitato in mano Cioè questo Che è uno 018 Quindi fate copia Andate nel vostro XML Trovate Il pistone di solito è 038 Per i tempi Non la prima qui che vi ho lasciato appunto la stringa vasca per farvi capire Andate qui e fate incolla 018 è il primo La tempistica lasciatela stare che ve l'ho messa io Start root Da dove parte l'animazione L'animazione di questi parte tutto da 0 Allora 0, 0, 0 Fine Traslazione 0, 0, 0 Allora Primo 0 è dedicato all'asse X Secondo 0 Asse Y Terzo 0 All'asse Z Ok Quindi Qua andiamo a vedere la rotazione La rotazione sull'asse X è meno 39 Per cui noi facciamo copia E andiamo a mettere dove abbiamo messo il nostro index La rotazione a fine Ok A fine traslazione che è in asse X abbiamo detto Mettiamo meno 39 Quindi incolla Ok E qui siamo a posto Perché poi quando andremo a vedere Se io adesso Vedete se faccio questo Lo porto a 0 Vedete che lui torna dritto Quindi parte da 0 Meno 39 Ok Poi facciamo il primo cilindro Qui era il terzo Qua questa volta andiamo Vedete Translate Translazione Y 0.682 Fate copia No scusate Che copia Fate 0, 18, 0, 0 Fate copia Andate qua sotto Fate incolla Allora Start Trans Ovviamente 0 Attenzione che qua Avevo sbagliato io Per cui dopo ve lo devo mettere a posto Anche qua Ci devono essere solo 3 zeri Se magari vi capita che vedete 4 zeri Mettetene sempre 3 Uno staccato dall'altro Ok Comunque qua non ce ne sono più Perfetto Dopo ve lo sistemo nel blocco note Allora abbiamo messo 0, 18, 0, 0 I tempi sono sempre gli stessi Anche questo Start Trans Da 0, 0, 0 Fine animazione Fine traslazione 0, 682 Copia E scusate Questo è sulla traslazione Asse Y Quindi XY E in mezzo Quindi Incolla Ok Andiamo a fare il quarto Che è 0, 69 Che è 0, 18, 0, 0 0, con 3 zeri Copia Incolla Ok Meno 0, 69 Sull'asse Y Anzi 0, 69 Sull'asse Y Quindi 0, 69 69 Ok Poi prendiamo Il quinto Che è questo qui Voi fate sempre Copia e incolla Copia e incolla Siete sicuri di non Sbagliare Incolla Abbiamo 0, 691 Come fine Y 0, 691 Poi Abbiamo Il sesto Che è 0, 694 Copiamo sempre L'index Vedete Vedete anche Solo a fare Delle animazioni Che cavolo Bisogna fare Questo va bene Come fine Fine Traslazione 0, 694 0, 694 Perché poi Quando avvieremo L'animazione Da in game Lui prenderà I dati Da qua Tutto questo Per cui prenderà I dati Di ogni singolo Ogni singolo Cilindro E gli dirà Quando iniziare E quando finire Ecco Perché bisogna Darle nell'XML Nel 2015 Poi facciamo Il settimo Che è l'ultimo Di questi Ok Che è stesso 0, 694 Però prendiamo Sempre il famoso Index E lo mettiamo In colla Qua Ok Vedete che siamo Andati avanti Sempre di 1, 0 Perché è in scala Giusto 0, 694 Ok A questo punto Ragazzi Io adesso Faccio l'animazione Dell'altro Che è la stessa Identica minestra Per cui non voglio Farvela Vedere Perché comunque Avevo già fatto vedere Questo È la stessa Identica minestra Non cambia niente E ci rivediamo Tra poco Che facciamo Vasca E portellone Ok Finito di animare Anche il secondo pistone Quindi adesso Per i pistoni Siamo a posto Tutta questa parte qua È dedicata ai pistoni Ok Adesso andiamo a fare La vasca Il portellone E animiamo il particle Dargli la rotazione Ok Per cui Facciamo la vasca Va bene così Per cui la vasca Anzi Prima di tutto Dobbiamo far così Prima cosa Dato che abbiamo fatto Abbiamo finito il pistone Riportiamo tutto Come era prima Quindi portiamo tutto a zero Tutto 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 quanto a zero Cinque Sei Sette Ok Portiamo anche l'altro Zero 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 Vi ho detto che Partono tutte Da zero 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 Per cui Ottimo E via Ok Allora Andiamo a vedere La vasca Vasca è Rotazione X Meno 50 E parte da Zero Per cui Adesso Prima che ci dimentichiamo Meno 50 Ok Allora Meno 50 Il suo index È Zero Zero Copia Andiamo nell'XML Dove vi ho scritto Vasca Copia Incolla Ok Lasciamo le tempistiche di scarico Sempre uguali Parte da Zero 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 E finisce In rotazione X Meno 50 Quindi qua Mettiamo Meno 50 Perfetto Il portellone Adesso però Anzi Facciamo prima il particle Del portellone Andate in Vasca Particle 008 Copiate prima di tutto L'index Qui sotto In fondo Ok L'ultima stringa Gli diamo La tempistica Va bene così Come ho messo io Dato che il particle Parte sempre da 00 Gli diamo Una rotazione Più o meno In circa Di 38 Ok Quindi lasciate Rotazione X 38 Per cui Parte da 00 Rotazione X 38 E noi andiamo a mettere 38 Perfetto Adesso Vediamo un po' Il portellone Per cui Chiudiamo il particle Portellone Vediamo un po' Ovviamente qua Sempre Rotazione Per cui Diamogli All'incirca Una rotazione Del genere Perché poi Dobbiamo vedere Cavolo Non mi ricordo Non mi ricordo I pistoni qua Come si animavano Se roteava Questo in giù Perché se io Adesso vado a vedere Questo No Spondina Questo non so Pistone 002 Fammi provare Ecco Vedete che lui ruota Quindi probabilmente Bisogna farli ruotare Vabbè Noi iniziamo a fare Il portellone Parte anche questo Da 00 Più o meno L'apertura giusta È sui 90 Per cui Noi mettiamo 90 Vediamo un po' Guardiamolo un po' Da lontano Se è un bel effetto Direi di sì Quindi Perfetto Quindi noi mettiamo 00 Copia Lo mettiamo Dove avevo messo La stringa Portellone Parte da 00 E finisce In Asse rotazione X 90 Eccolo qua 90 Ok Adesso Vediamo Perché io adesso Sinceramente Non mi ricordo Ragazzi Perché adesso Qua Questo no Dobbiamo spostare O questo Perché sono due tubi Addirittura Fammi vedere Così E poi c'è un altro Tubo addirittura Ah Bestia Ah Sono due tubi Ora capisco Ok Zero Per cui adesso Bisogna vedere Se Vediamo un po' Sì Adesso gli do una rotazione Qua dove va a finire Così Così Più o meno Invece Se la metto a zero Se metto a zero Ragazzi Qui Lavoro in diretta Metto a zero E metto a zero Il portellone Ok Quindi deve seguire Più o meno La parte qua Per cui Io adesso Rimetto a 90 So che brutto da dire Il portellone E Questi qua Pistone Glielo faccio Girare Più o meno Così Noi proviamo così Ragazzi Poi nel caso Cambieremo Poi dopo Per cui Noi proviamo Un mestiere Del genere Che segua così Però vedete Che qua è fuori Sì Sono No Perché Non sono lunghi Uguali Come mai Va a vedere Ok Allora noi proviamo così Quindi Allora Pistone Allora Parte da zero Anche questo Quindi Zero Zero Quattro Copia Zero Zero Quattro Vabbè Proviamo così Poi nel caso Lo sistemiamo Inizia Zero Zero E finisce In asse In rotazione Y Ventiquattro Se è uno Quattro Rotazione X Ok Quindi Cancella Lo zero E incolliamo Poi Facciamo Il tubo Uno Che è quello Che abbiamo tirato fuori Che parte da zero Se non mi sbaglio Sì E lo facciamo finire In traslazione Y Copia Zero 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 Che il suo index Finisce In traslazione Y Zero 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 Punto 84 Ok Per cui adesso Riportiamo tutto quanto a zero Lui a zero Lui a Zero E lui a zero Perfetto Come vedete adesso La vasca Anche lei va A zero Ecco qua che torna tutto Tutto quanto come prima Per cui ragazzi Io adesso Chiudo qua il video Ditemi se le animazioni Sono riapparse Che nel prossimo video Partirò come in questo video Che ho fatto Ci ritroveremo in game A vedere se Attenzione qua però Salvate sempre Per sicurezza Prossimo video Ci ritroviamo Direttamente in game Come oggi Che andiamo a vedere Se ha animato giusto Poi nel caso Mi sistemo io Queste Perché devo ancora Capirci un attimo Quanta rotazione Dagli Poi nel caso Vi farò vedere Spero di esservi Stato utile Anche questa volta Fatemi sapere Mi raccomando Se vi funzionano Vi funzionano Le animazioni Mi raccomando Ragazzi Seguite Bene 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 Tutto Quanto Vi ho fatto vedere Anche quali stringhe Copiare Nel caso Dovete fare Anche l'animazione Del secondo pistone Adesso Faccio Mettervi a posto Direttamente Queste Da già che sono qua Mi sembra che c'è No Non ce n'era un'altra Quindi Perfetto Così Ok Quindi File salva Adesso ve lo carico Subito E noi ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Dove andremo a vedere Se funzionano Le nostre animazioni Che abbiamo fatto Andiamo a vedere Di mettergli Delle luci nuove E delle frecce nuove In teoria Si Ok Dovrebbe servire Dovremmo fare quello E poi in un altro video Ancora vedremo Come mettere a posto La storia delle ruote Poi passeremo Al washable E poi finiremo Questa serie Spero davvero Che vi sia Vi sia stata D'aiuto Diciamo Ecco Per cui Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao